bene eccoci qui con il nostro this world with an enemy piazzato sul tavolo di gioco e la mappa sorpresa sorpresa è una bella mappa dell'inghilterra visto che stiamo parlando della guerra civile inglese o meglio delle delle isole britanniche perché voi vedete qui inghilterra il galles la cornovaglia la scozia l'irlanda poi addirittura anche un pezzo di le continent cioè il continente il continente quindi avremo anche degli effetti nel gioco del del quadro europeo allora cominciamo un attimino a familiarizzarci come sempre partendo dai componenti del gioco e allora vediamo innanzitutto prima di parlare del del terreno come vedete troviamo qui qui sotto eccola qui eccola qui una track dei punti vittoria che appunto si sposteranno da una parte all'altra nel gioco diciamo in genere la fazione parlamentare è individuata da questo scettro e che lo scettro del parlamento e mentre invece la fazione realista è individuata identificata dalle dalle corone anzi dalla corona lassù un pochino lontano rispetto a me lassù vedete c'è la track temporale con i vari round e l'anno dello scenario questo lo scenario diciamo base con l'introduttivo del 1644 qui molto utile c'è una praticamente queste londra praticamente è quello che succede qui dentro se volete utilizzare un'area di londra un pochino più facile da da utilizzare più grande ingrandita perché effettivamente molte cose come vedete già qua succedono allora andiamo però a vedere un po la mappa la vediamo un po più da vicino facciamo uno zoom devo dire allora graficamente è bellissimo lo vedete lo aprite questa mappa cominciate a dire subito wow che bella poi cominciate a leggerla escono fuori un po le magagnette perché io sono sicuro che voi non riuscite a vederli ma qua ci sono tutta una serie di noi qui lo vedete perché è in chiaro ma qui ognuna di queste aree ha un proprio nome che è un'area il nome di una più o meno di una contea inglese sì non si vedono bene perché se tu le fai verde scuro sul verde chiaro più evidenti invece sono questi vedete questi bordi questi bordi colorati per esempio questo viola lo faccio vedere questo viola è il bordo della della regione del galles ok qui ci sono invece le midlands qua all'est sopra il nord addirittura la scozia e poi qui sotto ovviamente il sud questo è già più evidente anche questi bordini questi effetti colorati ombreggiati si vedono già meglio poi ci sono altri queste linee un pochino più sottili che andiamo qui a vedere che sono un po le divisioni tra le varie aree ci sono diversi effetti di attraversamento con aree tratteggiate o meno ci sono fiumi e quant'altro è bello non è visibilissimo però dopo un pochino capite che non è visibilissimo però magari poi piano piano ci facciamo ci fate un po ci fate un po l'abitudine ognuna di queste province diciamo chiamiamole così ha dei simboletti speciali che ricordano eventuali regole un po regole un po particolari che possono che possono intervenire poi qui vedete ecco lo faccio vedere rizzoomiamo un pochino per darvi un po ecco qua un'idea ecco qui avete un simbolo di porto e qui avete le città le città sono dei quali probabilmente fatti meglio perché vi ricordano i punti di riclutamento quanti punti vittoria in genere in genere le città danno sono quelle che danno i punti vittoria dei diversi scenari e poi quando le città sono grandi sono fortificate appunto vi ricordano che potete anche chiudervi dentro e quindi sostenere un assedio da parte del del nemico quindi devo dire da questo punto di vista è fatto bene c'è un po questa scelta di colori di scuro su scuro su scuro neanche chiaro su chiaro che francamente poi un'altra cosa che voi andate a trovare nella scatola indovinate un po a tutto questo setup ci sono delle delle schede che vi consiglio anche di di scaricare il sito della nazz delle schede di setup che sono molto buone sono molto rapide da utilizzare poi altro materiale io me li sempre al sito della nazz me li sono scaricate mi sono ristampati voi trovate il rule book e il playbook il playbook è diciamo eccolo qua l'introduzione storica nel rule book voi trovate le regole e gli scenari questo non lo trovate vi metto poi ve l'avevo detto ne ho parlato non lo trovate forse bene 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 parlo nel terzo segmento comunque c'è un regolamento introduttivo che praticamente è sempre questo meno molte regole speciali che io vi consiglio problema che non lo trovate sul sito della nazz lo trovate su bgg comunque io vi poi dopo vi vi metto il link sul borgnegic dove potete scaricare il regolamento introduttivo che ottimo perché sostanzialmente è lo stesso motore del gioco solo con un po di regolette speciali in meno quindi anche veramente è molto utile o regolamento regolamento eccolo qua vi faccio vedere un po di pagine poi questo ve lo andate scaricare andate a vedere è fatto molto bene cioè è molto leggibile molti diagrammi molti esempi il testo va un pochino a salti nello spiegare le regole e soprattutto ad una prima lettura può sembrare un po complicato nel senso che alcune cose magari le trovate solo all'inizio e poi non ve le rispiega più non ve le ricorda più e ricordate una cosa stupida quante carte devo prendere lo dici in un paragrafetto all'inizio punto e basta magari andava un attimino un attimino strutturarlo meglio però insomma ci va un attimino studiato vanno studiate anche le varie eccezioni di carte unità speciali perché secondo questo è stato abbiamo visto nell'introduzione un conflitto così ampio così complesso beh è chiaro che effettivamente ci sono necessario avere molte regole molte regole speciali quindi quelle un po di eccezioni eccetera andate a studiabili oppure giocate prima con lo introduttivo che toglie molte di queste eccezioni che ha soltanto il motore essenziale del gioco certo a livello di dettaglio storico ne soffre un po però una volta che lui vi siete fatti almeno una partita con il regolamento introduttivo magari proprio questo primo scenario avete già in mano 80 per cento del gioco il resto semplicemente ce lo aggiungete altre cose ecco appunto ci sono gli scenari che forniscono setup obiettivi abbiamo parlato delle carte di scenari dove le faccio vedere eccole qua le prendo eccole qui vedete questa è una questa la potete scaricare dal sito c'è la mappa con tutte le unità dove vanno le unità hanno sovrascritto dove devono essere messa nel setup però comunque la carta è più più facile e più è più immediato per quello che riguarda gli scenari e gli scenari vi faccio vedere questa parte qua del notebook eccola qua allora gli scenari eccolo qua perfetto dovreste dovreste riuscire a vederlo allora abbiamo la la campagna totale la prima parte della guerra dalla dalla metà alla fine della guerra la metà della guerra che questo stato questo qua questo scenario introduttivo e poi addirittura il past war addirittura un scenario di campagna che il full war cioè quello della guerra in vera completa con un setup dei blocchi iniziali quasi una variante un setup dei blocchi iniziali scusatemi casuale e quindi con alto valore di giocabilità gli scenari sono tanti sono sono tanti e mi piace e mi piace molto questa cosa si va da questo scenario che è relativamente breve che in un'ora un'oretta e mezza ve lo ve lo tirate via fino appunto al c'è un altro scenario introduttivo che appunto per i primi anni della guerra e poi il nocciolo della questione è quello dalla mid to late war cioè dal metà alla fine della guerra e che prende questo che continua che non si ferma soltanto ad un anno oppure quello completo e se volete la con la variante di alta rigiocabilità quello completo con il setup un po più casuale e che è molto e molto interessante in generale però ecco questo è un po una costante degli scenari in generale come storicamente è avvenuto per mantenere un'evoluzione storica agli scenari il realista il giocatore monarchico fedele alla casata degli steward parte più forte rispetto al parlamentare poi il parlamentare torna in torna in auge subito subito dopo quindi diciamo abbiamo una prima fase in cui il realista ha il vantaggio e poi piano piano con le carte che come vediamo come vedremo adesso cambiano il mazzo cambia di anno in anno e poi in generale anche con un po di regole che si inseriscono mano a mano il parlamentare prende sempre più sempre più il il volo allora abbiamo visto però a un'ultima cosa il voglio far vedere appunto il playbook è molto bello c'è tutta una bellissima introduzione storica veramente fatta bene con i comandanti realisti parlamentari in tutta una cronaca della guerra ma soprattutto prima di tutto avete eccolo qua un bel esempio di gioco un extended example of play che è fatto molto molto bene sì c'ha qualche errata è andate sempre bgg nazi scaricate le errate però le errate in questo caso sono abbastanza minime dovreste credo trovarle già incorporate in queste che andate a scaricare quindi non sono un grosso problema in questo caso l'errate abbiamo visto regolamento abbiamo visto gli scenari andiamo a vedere abbiamo visto appunto anche la mappa ma andiamo un pochino a vedere quello che quelli che sono i pezzi gioco cioè che cos'è che spostiamo sulla mappa andiamo a spostare queste che sono le pedine di nuovo altro zoom e adesso vi faccio vedere per esempio queste le pedine questo reggimento eccolo qua realista ecco come vedete queste sono le pedine che sono i blocchi o voi li vedete che io li ho piazzati tutti così per farveli vedere tutti quanti a faccia in giù ma normalmente questi dovrebbero stare in questa posizione se voi siete per esempio il giocatore realista quindi in questo caso ecco qua voi andate a vedere soltanto ecco qui faccio vedere un po l'effetto immaginate voi di essere il giocatore realista questo è tipico dei blog game l'effetto che si ha è questo qui spostiamo e abbassiamo un po la nostra telecamera per farvi capire un po l'effetto ecco qua e la come vedete è questo l'effetto cioè voi avete dalla vostra parte soltanto le unità che vi riguardano quindi che sono le vostre unità le unità dell'avversario non le vedete qui crea appunto la nebbia nella nebbia di guerra però andiamo a vedere un pochino le unità altra cosa classica dei blog game eccoci qua è il fatto che come vedete hanno dei punti forza che sono un po la loro resistenza che poi appunto vi ritroverete in combattimento e questi punti di forza ma è una mano che subite perdite la pedina andrà ruotata in questa maniera e quindi degraderà il suo il suo potenziale offensivo questa è una caratteristica classica dei dei blog game ho tutte unità quelli sono dei blocchetti di legno viene un bel po di adesivi che con santa pazienza mi mettete ad incollare sui sui blocchetti medesimi abbiamo appunto abbiamo visto in unità la tipologia in questo caso è un'unità di fanteria ecco qua la nostra macchetta magica come sempre i punti forza poi ci sono altri valori come l'efficienza o questo qua eccolo qui questi sono indicatori molto importanti perché sono indicatori della regione perché come vedrete poi il regolamento vi spiegherà alcune unità non possono abbandonare per esempio questa unità non può abbandonare la regione sud a meno che non sia accompagnata da un leader perché era un conflitto molto regionalizzato in effetti e comunque sull'unità voi trovate tutto poi avete anche certo avete anche i leader come in questo caso ecco qui che hanno che hanno altri valori sono sostanzialmente i leader i leader si considerano accompagnati da una propria scorta personale questi qui ci sono valori quando sono dell'unità di cavalleria con questo caso ci sono anche dei valori di disciplina e altro e altro ancora quindi come vedete è estremamente semplice non c'è un grandissimo numero di unità quindi è molto molto densa la la gestione la gestione della partita come muovete queste unità voi le muovete utilizzando queste che sono eccoci qua le carte ci sono due mazzi uno per il realista e uno per il parlamentare quindi è asimmetrico un gioco molto asimmetrico come giustamente deve essere perché le carte sono molto diverse e vediamo una carta tipo voi all'inizio del turno giocate due carte coperte una gioco il parlamentare una la gioco il realista e si va a vedere il primo il primo è il valore di punti azione l'iniziativa c'è la chi ha la chi ha giocato la carta con il valore di punti azioni più più elevato e molto semplicemente le parità anche qui all'inizio vengono risolte a favore del realista poi mano a mano che si va avanti a favore del del parlamentare quindi questo è il numero di il valore di punti azioni che quante azioni potete fare poi vedremo quali azioni quali sono sotto c'è un evento che perché oltre a punti azioni c'è anche un evento e qui c'è la fase c'è l'indicativo della fase in cui quell'evento a luogo t sta per tattico per esempio quest'altro per esempio diserzione delle truppe regionali o operazionale e quindi questo evento avrà effetto durante la fase operazionale poi alcune carte questo è importante ed è un sistema che abbiamo trovato anche nel nostro verdant come vedete ricordate verdant alcune carte hanno questo che è l'indicativo dell'anno in cui vengono inserite o dell'anno adesso non ne trovo tra quelle realista eccolo qua o dell'anno in cui vengono tolte quindi il mazzo effettivamente si si evolve il mazzo fa vedere quelli che sono degli eventi e degli eventi speciali che quindi delle variabili delle variabili molto particolari al di fuori dell'ordinario che furono però il fuori dell'ordinario furono dalla norma all'interno di un conflitto così fuori dell'ordinario come fu la guerra civile inglese le carte mi piacciono molto sono belle e ben fatte tutto quanto è molto stiloso e molto diciamo nello stile nello stile dell'epoca devo dire l'impressione che mi dà questa mappa vi devo dire la francamente che non dico che ci abbiano lavorato due grafici diversi però è chiaro che segue due stili diversi perché su carte pedine noi abbiamo uno stile disegnato molto a fine all'epoca i riquadri funzionali invece mi paiono avere una grafica cioè basta vedere la carta una grafica molto moderna perché basta vedere la carta qua davanti parte filigranata tutto quanto in in stile in stile dell'epoca e dietro puffete un dorso modernissimo scuro su scuro appunto purtroppo con dei colori veramente moderni quasi quasi da 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 gioco per computer è una cosa un po straniante però effettivamente però questo ve lo ritrovate sulla mappa perché sulla mappa ci sono un po delle c'è 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 una parte che sembra molto dipinta molto pastellata e poi delle icone che vengono fuori che sono molto moderne forse anche voluta non è non è male come cosa perché crea un bel distacco però ecco ad alcuni può piacere ad altri no come sempre però comunque sono componenti che personalmente io ritengo molto funzionali a parte questa cosa sta scelta dei colori delle delle scritte che magari dice vi serve sulla setup poi così non le vedete non ce l'avete in mezzo vabbè io su questo potrei avere potrei avere i dubbi perché mi piace vedere scritte e non stare a ciecare ogni volta per capire ma qui che cosa hanno voluto scrivere comunque questo questi sono i componenti del gioco allora adesso io vi ho rimesso tutti quanti i blocchetti a faccia in su un po per chiarezza un po perché se lo giocate con in solitario poi vedremo suggerimento per come giocarlo in solitario effettivamente questo è il modo con cui vedrete la mappa però adesso abbiamo visto i componenti vediamo un po come li facciamo interagire tra di loro questi componenti ce lo siamo detto di si vuole guidato an enemy più che un gioco blocchetti con le carte è un card driven che usa anche i blocchetti e quindi il protagonista il vero protagonista del gioco sono le carte all'inizio del turno voi ricevete ogni giocatore riceve 6 carte e poi potrà giocarle nei vari round o allora quali sono le fasi la prima fase la fase di iniziativa ogni giocatore gioca una carta dalla dalla sua dalla sua mano e appunto le carte poi dopo vengono scoperte gioco prima coperta vengono scoperte e l'iniziativa facciamo zoom ecco qua l'iniziativa viene assegnata a chi ha il valore più alto in questo caso il regista ha giocato una carta da 3 il parlamentare ha giocato una carta da 4 quindi l'iniziativa ce l'ha il parlamentare molto semplicemente però una cosa importante in caso di parità ce lo siamo detto il gioco funziona in questa maniera di solito nei primi turni le parità vengono risolte a favore del realista e poi invece mano a mano che si va avanti nella partita a favore del parlamentare però tenete conto che per esempio questa carta del parlamentare ha un 4 ma non ha nessun avento quindi avrà soltanto valore 4 la carta del realista ha valore 3 quindi più basso però un evento che verrà risolto nella fase indicata da questa lettera in questo caso la fase tattica durante eventuali battaglie però che cosa ci possiamo fare ok noi siamo in parlamentare abbiamo la nostra bella iniziativa abbiamo dei punti azione perché questo valore è il punto azione entriamo nella seconda è valore in punti azione entriamo nella seconda fase la seconda fase è la fase delle operazioni dopo l'iniziativa le operazioni e quindi sono quante azioni effettivamente possiamo fare le azioni sostanzialmente sono dei movimenti perché sono o il classico movimento via terra decido che una o tutte le unità di un'area per esempio posso dire che questa e questa si spostano ad un'altra area vicino movimento molto semplice un altro tipo di movimento è il cosiddetto master cioè il raggruppamento noi immaginiamo che ci sia una situazione del genere allora come funziona il master dico ok indico quest'area come l'area di raggruppamento quindi tutte quante le unità delle aree vicine possono ovviamente lo posso fare solo con le aree che possono raggrupparsi lì e quindi c'è un raggruppamento in modo da organizzare e creare un raggruppamento più forte c'è poi un altro modo in cui posso utilizzare puntazione è muovere l'unità via mare attraverso i porti però attenzione perché se passate dove ci sono in zona dove ci sono dei porti nemici effettivamente l'avversario può intercettarvi l'ultima cosa che posso fare è il reclutamento posso effettivamente utilizzare il puntazione per fare del reclutamento quindi per rafforzare le unità che abbiano subito delle perdite e farlo durante il turno la terza fase è quella che poi vedremo con calma dopo la fase tattica quella della battaglia e degli assedi dove ci sono gli scontri effettivi tra le unità poi abbiamo una fase di rifornimento dove si valuta se per esempio se non in un'area magari se ci sono troppe unità all'interno di una stessa area quindi le aree ne possono sostentare fino ad un certo numero si calcola l'attrito, si calcola quindi le diserzioni si vedono se delle città assediate si arrendono e insomma tutti questi vari effetti la fase ulteriore ancora è quella del controllo delle condizioni di vittoria si vede se effettivamente qualcuno è riuscito a ottenere le condizioni di vittoria fissate dallo scenario e infine l'ultima nel caso è la fine dell'anno casomai noi siamo arrivati all'ultima carta di quell'anno e quindi c'è il possibile arrivo di nuovi blocchi rimozione di blocchi già piazzati e insomma cose determinate dalle regole di scenario queste sono le fasi quindi le ricordiamo iniziativa, operazioni, tattica, rifornimento, vittoria e poi la fine dell'anno ok tutto molto bello abbiamo visto come ci si muove come si regolta come si agisce sulla mappa però ovviamente andiamo un pochino a vedere quelle che sono le battaglie ovviamente le battaglie avvengono quando ci si è spostati all'interno di una zona che è controllata dal nemico ricordate un'altra cosa appunto nel movimento di prima ovviamente ci sono alcuni confini alcune aree hanno dei confini speciali che hanno degli effetti speciali sul movimento magari soprattutto non si può attraversare lo stesso confine un'altra delle cose canoniche dei blocchi dei giochi blocchi non si può attraversare lo stesso confine con più di tot unità e questo è importante molto per le battaglie perché magari è difficile riuscire a trasportare non potete fare gli eserciti morte nere con dieci unità che attraversano tutte quante lo stesso confine soprattutto se magari in mezzo c'è un fiume o se comunque si tratta di territorio accidentato quindi ci sono dei limiti al movimento al momento per arrivare alle battaglie e in generale al movimento e infatti qui si riflette poi su quello che poi dopo andiamo a trovare su questa bordo apposita che è una bordo apposita della battaglia dove vedete è tutto suddiviso in aree sono delle aree funzionali in realtà una cosa un po' strana in questo gioco mi aspettavo un centro, destra, sinistra mentre invece queste aree non è che anche se graficamente sembrerebbe che corrispondessero a destra, centro, sinistra eccetera chiaramente in realtà hanno proprio dei ruoli perché per esempio la fanteria che sta qua è la firing infantry cioè la fanteria che sta a firma e spara mentre invece questa è la engaging infantry quella che proprio va a fare la carica il corpo a corpo stesse cose per la cavalleria l'artiglieria piazzata qua quindi dovete un attimino ecco, qui c'è un po' di estragnamento tra i due piani il piano grafico, l'organizzazione grafica e la parte funzionale per il resto la board è fatta molto bene è molto chiara e ci riporta queste che sono le queste qua eccole qua che sono le sequenze della battaglia sia per l'attaccante che per il difensore la sequenza della battaglia all'inizio si vede allora vedete che sono i round le battaglie sui vari round della battaglia che vengono combattute eventuali riserve possono appunto vengono piazzate qua perché poi arriveranno in un momento successivo allora la primissima cosa che viene fatta è l'artiglieria che spara come effettivamente all'epoca l'artiglieria non c'era chissà quale grande ruolo quindi sparerà una volta farà un unico tiro poi si passa la fase successiva l'infantry fire quindi spara l'infanteria che è a distanza la cavalleria ingaggia e poi potrà avere inseguimenti mandare in rotta unità eccetera e poi l'infanteria arriva piano piano ingaggia in coppo a coppo perché dovete immaginare questi schieramenti di picchieri quindi si muovono lentamente per mantenere la formazione però quando arrivano beh fanno male come fanno male vediamo qua ecco qui allora in generale abbiamo detto che le unità hanno un valore di forza e che poi mano a mano si va a modificare perché mano a mano si subiscono le perdite ovviamente diminuisce l'unità e degrada questo semplicemente questa cosa tra i pallini sono il numero di dadi che tira che tirerà questa unità e questo è il valore 2 che deve fare o minore per infliggere un danno all'unità avversaria quindi per esempio questa unità questa fanteria tirerà 3 dadi a piena potenza e colpirà all'1 o al 2 questa cavalleria che è già un pochino più potente come vedete ha forza 3 ed efficacia 3 quindi colpirà colpirà al 3 più i vari modificatori che possono avere per il loro comportamento in battaglia più quelli che poi possono derivare dalle dalle carte quindi le battaglie sono molto semplici in realtà sono molto sequenziali hanno questi round poi nel partire dal secondo round uno può uno dei due può ordinare una ritirata generale e però arrivano appunto le riserve che possono arrivare da altri posti vicini che erano già che erano già piazzate e poi si va avanti e si va avanti fino alla risoluzione della battaglia è veramente molto semplice è un attimino macchinoso perché cercare di capire tutte queste fasi che ingaggia che non ingaggia che insegue come insegue eccetera però anche lì dopo un po' vi diventa molto molto semplice un'altra cosa sì ci si può ci si può effettivamente ritirare anche prima della battaglia però ovviamente poi ci sono degli altri magos da sostenere ci sono degli inseguimenti da parte da parte dell'attaccante quindi comunque è tutto spiegato molto molto bene su queste che sono su queste sono le eccole qua le le i play raid altra cosa che spiega molto bene play raid è l'assedio allora vedete intanto parte qua la sequenza della battaglia ritorniamo sulla battaglia vedete eccole qua quindi qua c'è proprio tutto quanto ben ben spiegato come come farlo poi l'assedio invece gli assedi sono quando uno dei dei due si è ritirato all'interno di una di una grande città mettiamo caso eccoci qua che qui ci si sia ritirati tutti quanti dentro Bristol e magari ci sia un bel esercito lo sto mettendo qua un bel esercito realista che ci sta assediando a Bristol allora che cosa succede con l'assedio che è un'altra caratteristica molto importante della guerra della guerra dell'epoca anche qui ci sono vari fasi c'è una fase appunto in quale l'attaccante può anche dire di levare l'assedio e andarsene c'è il il difensore eccolo qua può fare un selling cioè cercare di fare una sortita e che può essere una battaglia normale oppure una battaglia con delle 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 modifiche poi c'è un oppure l'attaccante può decidere no noi invece di rimanere lì fermi e imporre una resa per fame quindi rimanere lì e imporre dei segnalini di attrito l'attaccante dice no noi facciamo lo storming cioè l'assalto eccolo qua anche questo ben indicato sulla nostra player aid ci sarà un bombardamento iniziale e appunto dopo il bombardamento ci dice se sulla base del del valore di artiglieria che l'attaccante si è portato dietro perché se non avete l'artiglieria è inutile che provate a fare fare un bombardamento iniziale ovviamente ci dirà se c'è stata una breccia e se c'è stata una breccia ovviamente ci sono molti vantaggi per quello che è l'assalto proprio quindi se non riuscite a fare una breccia sono guai perché effettivamente il difensore si trova messo molto meglio con dei modificatori molto molto più elevati oppure potete decidere no non ce ne stiamo lì fermi non facciamo nessun bombardamento nessun assalto e avremo questa qua questa bella tabella con l'attrito dell' l'attrito dell'assedio eccolo qua è che mano a mano che l'assedio va avanti ovviamente si possono si possono imporre perdite maggiori all'attaccata e addirittura costringerlo alla resa come vedete sia le battaglie che l'assedio danno un buon valore tattico un buon elemento tattico alle vostre alle vostre partite non è soltanto la parte strategica non è soltanto la parte politica ma ci sono molte scelte da fare anche sul piano tattico quando ritirarsi quando non ritirarsi quando spingere l'assedio o quando non spingere l'assedio bisogna fare attenzione però come sempre perché in questo tipo di giochi quando si ottiene una vittoria troppo a caro prezzo poi dopo la si paga perché probabilmente si rimane con un esercito molto rattoppato e non in grado di rispondere alle risposte al nemico comunque in generale questo è un pochino come funziona il tutto quindi come vedete c'è questa fase di iniziativa si giocano le carte si muovono in un'unità e poi ovviamente c'è la parte più tattica nell'ambito di questo sulle carte ci sono vari eventi che possono appunto determinare diverse modifiche fare entrare in gioco altri blocchi o far passare zone da una parte all'altra come vedete è un gioco veramente molto molto movimentato che al di là delle eccezioni e soprattutto se cominciate con il regolamento introduttivo è davvero è davvero molto semplice è un regolamento introduttivo lo fa diventare un block game molto semplice il regolamento normale completo beh aggiunge veramente tanto dettaglio storico su un impianto che però è veramente veramente essenziale è davvero molto semplice che 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 è davvero molto semplice